Per questo questa serata dedicata a Francesco Barilli, in generale alla figura di Milena Pavlovich Barilli per noi è molto importante, del resto nel 2009 abbiamo già festeggiato insieme al vostro ministro per la cultura, Bradic, in diverse occasioni la promozione di questa figura che giustamente va anche rivalutata e va apprezzata e io per questo sono molto contenta di essere qui stasera, vedremo questo documentario ancora non l'ho vista. Ja mogu reći da smo mi dostojno obeležili come italijanski kulturi center u saranjisi sa srpskim ministarstvom za kulturo, gospodin Bradic, è un grande podresco a cui sono molto paura, posveti a svim manifestacijama koji mi è obeležen tokom 2009. jubilea Milene Pavlovich Barilli. Ovo večeras è un' dopo di tutto, io non ho visto un documentario film, ma sono davvero radoznala da vedo il nuovo, edvoca, a ono che è bello, è il documentario film, non c'è solo o Mileni, nego o generacijama jako, jako talentovanih i svestranih umetnika koje je dala Loza Barilli.